bella per voi ragazzi la serie senza tempo Diego da solo perché Marco non ha potuto vedere la partita io me la so vista al lavoro e Dio ha voluto che non mi ha rotto i coglioni nessuno durante tutta la partita me la so vista praticamente tutta, sono uscito a mangiare, è stato bellissimo, bellissimo tranne che per il risultato di questo Bologna-Lazio finito per 1-0 il gol di Ferguson che io avevo il fantacalcio e maledetto sia il fantacalcio io ho deciso di non metterlo e lui ha detto no io non voglio che segna Ferguson quindi non lo metto al fantacalcio e infatti ha segnato invece lo dovevo mettere, rischiate perdere il fantacalcio e magari non segnava vabbè scherzi a parte, ragazzi Bologna è una trasferta più che proibitiva perché non vinciamo dal 2018 mi sembra di aver capito quando Isoi Molinzaghi batte suo fratello Pippo e niente noi siamo stati sfortunati al primo tempo perché prendiamo una traversa tra l'altro allora voglio dire subito una cosa sull'arbitraggio che era la penna penso sia parente di quello di Radio 6, no non credo però ecco della sezione di Roma io non capisco perché abbiano tolto questa territorialità non voglio fare polemiche stupide nel senso però secondo me è ovvio che se sei di una sezione in particolare e vai ad arbitrare la squadra di quella sezione tu ne risenti sia se da ragazzino ti favi una o l'altra squadra ma anche se ti favi a Juve da ragazzino e sei di Roma e vai ad arbitrare la Roma o la Lazio ne risenti psicologicamente infatti secondo me ha arbitrato molto male non ha tirato fuori un cartellino l'ha tirato fuori male ma anche verso di noi cioè non solo non sto parlando dell'arbitrato a favore del Bologna assolutamente ma è arbitrato proprio male e il Bologna ha allora alla fine ha meritato la vittoria però ecco ha fatto veramente poco nel primo tempo traversa di Castellanos l'arbitro l'ha già fischiato non si sa che fallo però va bene e la Lazio ha avuto parecchie occasioni però poi come al solito non quaglia quando arriva lì davanti però fino al primo tempo io ero fiducioso perché appunto Ziriczi non aveva strusciato un pallone e la difesa si sta comportando bene davanti comunque sembravamo arzilli qualche errore di troppo insomma negli appoggi forse però mi sembrava una buona Lazio propositiva poi al solito tempo sistematicamente entriamo in campo male e riusciamo a creare quel buco in area dove Ziriczi appunto trova il corridoio per Ferguson non schierato da me al Fanta quindi perde Lazio e perde pure al Fanta probabilmente e niente l'unica sbavatura praticamente fino a quel momento della Lazio il Bologna appunto trova il corridoio e ci buca Ziriczi il giocatore che nel secondo tempo si è proprio visto secondo me è stellare ragazzi nel live che abbiamo fatto ieri da Giovanni Stramarci parlavamo di quanto si è cambiata forse è un discorso anche sorpassato ma quanto è cambiata la figura del centravanti non c'è più il centravanti bomber il centravanti di ruolo che segna ce ne sono rimasti 3-4 in Europa e se li litigano sono dei 100 milioni perché adesso il centravanti segna poco perché fa un altro ruolo praticamente non è più un 9 è un 9 e mezzo e Ziriczi incarna alla perfezione questo nuovo ruolo della punta centrale non segna, sforna assist, fa salire la squadra ha una visione di gioco impressionante sto ragazzo sentivo Bergonzini alla radio oggi che diceva ma a me non mi fa impazzire secondo me dipende dal contesto in cui gioca però se tanto me da tanto questo ragazzo può fare bene anche in altre realtà comunque alla fine rientrava a difende veramente forte forte così come è forte Ferguson così come non sono forti i nostri ragazzi cioè non forse questa è la partita in cui sempre in live ieri dicevamo la partita in cui Lazio poteva finalmente confermare un'altra volta il suo status per questo campionato che deve fare la Lazio la Lazio è una squadra che quando incontra le squadre più piccole tra virgolette perché poi il Bologna ha da verificare se adesso vale meno della Lazio però insomma che ha meno ambizione della Lazio la Lazio deve battere queste squadre cioè se vuoi appunto crearti uno status all'interno del tuo campionato ci sono delle partite scusate ragazzi molto l'anno perché mi riesco a trarre un appoggio ci sono delle partite che devi portare a casa e la Lazio non c'è riuscita e continuano a riuscirci ci sono queste tre partite adesso quella di oggi quella di martedì contro il Feyenoord e poi la partita che non si nomina a fine insomma dei domenici è il derby e dicevamo che è meglio vincere questa e pareggia il derby o pareggia questa e vince il derby insomma se riesci a vincere a all'unanimità abbiamo detto che se vinci dai per scontato tra virgolette insomma che tu vuoi vincere la partita contro il Feyenoord avremmo forse preferito vincere contro il Bologna e pareggiare il derby perché appunto ti dava una misura di cosa voleva fare la Lazio le squadre che non hanno le stesse ambizioni le devi battere e continui a non fare continua ad essere altalegante e sarebbe stata la quarta vittoria consecutiva in campionato e continua a non esserci questa regolarità e niente poi ecco Castellanos continua a fare delle ottime partite combatte la precisione di passaggio addirittura superiore a quella di se proprio vogliamo dirla tutta vogliamo dare i dati però poi sottoporta e non è concreto è entrato in mobile e ragazzi almeno così mi hanno detto perché io non si è visto in campo nel secondo tempo non si è visto nessuno nessuno là davanti io al Fantasio oppure Felipe ho visto che ha preso 5 forse mi dava un po' di più non lo so 5 e mezzo per favore invece no 5 perché comunque il Lazio non crea gli attaccanti non saltano l'uomo è entrato finalmente anche Pellegrini ha fatto 2-3 errori pesanti in fase difensiva però in fase offensiva lui lo dà qualcosa in più ma ti dà continua la sovrapposizione ma non riusciamo a liberarci dell'uomo non si dribbla non si fanno 1-2 che ti mettano in superiorità numerica non si capisce perché gli prendono questi coccoloni alla Lazio e dopo aver detto che la Lazio ha tirato fuori le palle contro la Fiorentina per aver vinto insomma aver acciuffato per il calcio di rigore alla fine partita e qui stavamo a cercare per tutti i costi un rigore che abbiamo visto l'albitro in confusione cercavamo un rigore a tutti i costi la gente che si buttava c'era quella punizione forse su Isaksen ecco anche Isaksen non è entrato bene c'è un cambio di direzione importante quel ragazzo buttato giù un paio di volte l'arbitro niente al limite dell'area proprio al 95esimo magari fallo c'era lui avrà accentuato ma gli avrei dare fallo invece ha monito lui per proteste e niente ragazzi continua questo 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 supplizio e niente quest'anno quest'anno purtroppo è così ora andiamo a a riposarci e a riflettere sulla partita che dovremmo dominare appunto martedì all'Olimpico contro il Feyenoord riuscirò a vederla fortunatamente perché nonostante mi abbiano come diceva il video precedente che non si è visto nessuno andatelo a vedere che era interessante secondo me anche se poi non si è rivelato peritiero però il video precedente ha questo con i turni mi hanno un po' inchiappettato però sono riuscito a liberarmi per vedere Lazio Feyenoord quindi ci andrò ci vedremo a Ponte Milbio come al solito per l'aperitivo e quella è una partita da vincere ragazzi poi quando arriva il derby si vedrà veramente sono è uno dei primi anni che dico che manco so sentire tanto sto derby perché ci sono altre cose altri problemi in casa Lazio dobbiamo dobbiamo essere regolari se no se ne rimettiamo le coronarie ragazzi un abbraccio forza Lazio grandi tutti i 2006 quanti anni erano stati da Bologna si sentivano solo loro fino a un certo punto proprio loro demoralizzati può essere un abbraccio votate commentate like ciao